In occasione della giornata mondiale della celiachia è stato presentato a Roma presso il Ministero della Salute l'intergruppo parlamentare Malattia Celiaca Allergie Alimentari e AFMS, ovvero Alimenti Affini Medici Speciali, nato su iniziativa della senatrice Elena Murelli con l'obiettivo di aumentare la sensibilizzazione su una patologia sistemica cronica che riguarda centinaia di migliaia di italiani. Al Ministero della Salute sono state illustrate una serie di iniziative, tra cui il patto di legislatura a cui hanno aderito numerosi parlamentari, oltre ad alcune società scientifiche e associazioni civiche direttamente coinvolte. Il fine dell'intergruppo è quello di andare a informare e formare su queste problematiche, perché collegate alla malattia celiaca, alle allergie e agli alimenti fini medico speciali ci sono dei problemi di informazione e formazione. Informazione sia da parte di tutti i cittadini, sia naturalmente degli operatori scolastici, degli operatori della ristorazione e dell'hotelleria e soprattutto formazione, formazione naturalmente anche dei medici, parlo dei medici generici, dei pediatri che sono le prime persone che devono fare la diagnosi, formazione anche di chi si occupa della preparazione dei pasti, sia all'interno delle scuole, naturalmente degli ospedali, delle carceri e anche dei ristoranti e degli hotellerie, perché devono offrire naturalmente un pasto senza glutine o un pasto speciale all'interno della dieta delle persone, senza naturalmente contaminazione per non fare discriminazione e accoglienza. Tocco e vedete la tua vita punta anche a sviluppare azioni che assicurino sostegno organizzativo, alimentare ed economico alle famiglie ed ai caregivers di persone con celiachia o allergie alimentari. Quali azioni sono necessarie? Allora, dal punto di vista della celiachia serve naturalmente la dematerializzazione dei buoni che sono naturalmente quelli che forniscono mensilmente la possibilità per i celiaci di acquistare questi buoni. Ci sono ancora quattro regioni dove questo buono è cartaceo che deve essere trasportato sulla tessera sanitaria. Serve anche però il riconoscimento su tutto il territorio nazionale di questi buoni, in modo tale che ci si può spostare in vacanza piuttosto che per naturalmente motivi scolastici, universitari o anche per lavoro su tutto il territorio e poter usufruire del bano buono e far speso ovunque. Dall'altro punto di vista, per chi ha allergie e soprattutto alimenti a fini medico speciali, ci sono purtroppo delle malattie a cui viene riconosciuto una particolare di sostegno da parte dello Stato per l'acquisto di alimenti a fini medico speciali, ma ci sono invece altre paciologie che non hanno la possibilità di avere questi alimenti riconosciuti. Quindi è importante andare a supportare queste persone che hanno queste particolari malattie rare anche nella loro parte di nutrizione e alimentazione. Quante sono in Italia le persone che soffrono di allergie alimentari e celiachia? Separatamente per le allergie alimentari e in particolare per l'allergia al grano fino ad oggi conosciute sono poche perché era poca anche la conoscenza intorno al problema. Le statistiche mondiali davano lo 0,3%, in nostri lavori siamo arrivati all'1,5% per quanto riguarda il grano. Le allergie alimentari sono molto più diffuse, intorno al 5%. L'allergia è un dato ormai assodato in tutta Europa all'1%. Gli alimenti a fini medici speciali, che cosa sono e a quali soggetti sono destinati? Gli alimenti a fini medico speciali sono delle sostanze create ad hoc per poter risolvere alcune patologie e sono quindi equivalenti a dei farmaci. Vengono utilizzati in gastroenterologia in particolare per le malattie infiammatorie croniche intestinali, in alcuni ambiti oncologici e anche per esempio per la celiachia e per alcune forme particolari di allergia. Per esempio appunto le proteine del grano e le proteine del latte. La celiachia e le allergie alimentari riguardano anche molti bambini e adolescenti. Qual è il ruolo che può avere il sistema educativo per la formazione e l'informazione su questi temi? Nelle scuole è importante spiegare, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie dove ci troviamo davanti a dei bambini, spiegare come affrontare la celiachia e anche effettuarlo in percorsi didattico-ludici, dove quindi i bambini giocando imparano però a capire che cosa è il glutine e cosa bisogna fare per prevenire questa malattia. Tu hai vinto il premio Italia Celiaci Award e sul tuo profilo Instagram hai da poco postato una foto con lo slogan «La celiachia non è una moda». Cos'è per te e come vive una giovane donna come te con questa malattia? Allora, la celiachia innanzitutto è una malattia autoimmune, non è affatto una moda come ho scritto anche nel post. È una condizione con la quale appunto noi celiaci dobbiamo convivere per tutta la vita. Diciamo che la mia situazione non è molto semplice perché io non sono solamente celiaca ma anche intollerante a lattosi, allergica alle proteine del latte, al frumento e al nichel. Perciò la mia vita è tutt'altro che semplice. Però comunque cerco sempre di affrontare nella maniera più serena possibile questa condizione. Anzi, ho deciso di aiutare gli altri proprio aprendo il mio canale Instagram. Come hai scoperto di essere celiaca? Allora, diciamo, c'è voluto del tempo. Io ho avuto la diagnosi ufficiale solamente nel 2016 dopo anni e anni di problemi. Stavo sempre male, avevo vari sintomi gastrointestinali e non solo. E alla fine è arrivata finalmente la diagnosi, seppur tardiva. Che vorresti dire a chi ha appena scoperto di avere questa malattia? Allora, diciamo che all'inizio può sembrare non semplice perché comunque la vita ti cambia completamente. Però dopo uno si abitua. Anzi, io ho deciso di fare proprio della celiachia non una debolezza ma un punto di forza. e appunto voglio aiutare gli altri facendo sensibilizzazione o comunque proponendo varie ricette in modo che la gente possa capire che cosa sia realmente la celiachia e che si può convivere tranquillamente con questa patologia. e appunto voglio aiutare gli altri facendo sensibilizzazione o comunque la celiachia